Un clima di violenza da tempo ormai ammorba l'area del territorio vivonese, una sorta di far quest che fa pensare che la strada da seguire sia quella di farsi giustizia da soli, mentre attraverso i social media si consuma un pericoloso giustificazionismo che porta addirittura a solidarizzare con i violenti. Dinanzi a questo costante imbarbarimento, dopo l'aggressione subita da un medico dell'ufficio igiene mentre stava ispezionando un panificio, solo ultimo in ordine di tempo, con medici aggrediti anche nel pronto soccorso dello Iazzolino o durante le visite fiscali, l'ordine dei medici ha deciso di prendere una posizione netta, lanciando un appello alla società e all'opinione pubblica. Quello dell'ultima aggressione al dottor Canovale, a cui va la solidarietà dell'ordine, è la punta dell'iceberg, ma continuamente noi come ordine, ma lo viviamo anche sulla nostra pelle perché anch'io faccio il medico, subiamo questo clima pesante che va, ripeto, dalle aggressioni verbali, dalle intimidazioni, dalle aggressioni psicologiche, fino alle violenze vere e proprie, a tutti i livelli, a tutti gli ambiti in cui il medico opera e pertanto questo è preoccupante verso tutti e credo che debbano essere prese delle iniziative adeguate, idonee, per arginare, per prevenire il fenomeno e in questo senso noi ci rivolgiamo proprio ai cittadini, alla stragrande maggioranza dei cittadini che vede nel medico colui che gli dà la salute e pertanto è proprio questi cittadini che noi diciamo prevenite, vigilate, aiutateci, siate con noi per curarvi, per essere al vostro fianco. Nel 1987 nacque a Vibo Valenza un'associazione, la Civitas, i cui soci fondatori credevano che solo la cultura fosse la strada giusta per tenere alto il divestillo della gloriosa città che affonda le sue radici in una storia splendida e minelaria. Nei primi anni di attività contribuì alla realizzazione di numerose opere e iniziative che varcarono anche i confini regionali, come ad esempio la realizzazione di una sezione di preistoria presso il Museo archeologico cittadino, legata alla donazione di un collezionista, Dario Leone, concessa alla città. Dopo un periodo di inattività dovuta anche alla scomparsa del suo presidente nonché fondatore Vincenzo Nusdeo, l'associazione Civitas ha deciso di ricominciare a svolgere la sua attività di salvaguardia di tutto il patrimonio della città, sia quello storico che quello culturale, partendo dallo scoprire che fine ha fatto proprio la collezione preistorica sparita dal museo. È un dato di fatto che la collezione che il professore Dario Leone ha dato per testamento olografo alla città di Vibo Valencia, a Vibo non è portatraccia, non si sa dove si è andato a finire questa collezione. Con questa collezione è stata fatta una mostra a Vibo presso il museo, allora era situato il Palazzo Gagliardi, di grandissimo interesse, ha avuto un successo enorme perché era anche tra l'altro presentata e organizzata dal professore Gambassini della normale di Pisa. La Civitas si era interessata con l'allora presidente Vincenzo Lusdeo a sostenere le spese per questo allestimento della mostra e anche tutto quello che è stato comprato, tutte le spese sostenute per l'acquisto di vetrine, compensi ai professionisti, dei pian, tutto quello che è stato necessario per l'allestimento della mostra e anche di quello non c'è più traccia. Quindi noi come Civitas chiediamo intanto la restituzione di tutto quello che è stato comprato dalla Civitas e che quindi è di proprietà dell'associazione Civitas, ma soprattutto vorremmo che la collezione, come da volontà testamentaria, faccia ritorno a Vibo e si è ospitata presso il museo statale Vito Capialbi di Vibo perché fa parte e integra la storia della città di Vibo. Non dobbiamo più soltanto fare riferimento come inizio della storia di Vibo all'era greca, ma dobbiamo andare a spostarci a 5.000, 7.000 anni prima, quando già c'erano delle popolazioni indigene e quindi avere la possibilità di mostrare alla città di Vibo quei reperti che testimoniano appunto questa presenza nel territorio vibonese.